bene andiamo ad aggiungere un valore aggiunto al nostro rig che è quello di avere le gomme un po' piegate per le gomme utilizziamo uno space warps un po' particolare tutti noi sappiamo che esiste un modificatore chiamato ffdbox difatti se io vado a realizzare un esempio in una sfera di lato ho la possibilità di applicare questo modificatore ffd che ho sia in 2x2 in una cella invece 3x3 4x4 in modalità box o cilindrica naturalmente quando vado a applicare questo modificatore vado a prendere vari control points vado a modificare l'intera geometria quindi non posso andare ad agire solo su una determinata parte una determinata area se non andando a crearmi una selezione volendo col volume selection per esempio vertici posso prendere un cismo soltanto una determinata area e posso applicare il mio ffdbox solo in questa determinata area e quindi andare a modificare tramite control points solo questa determinata parte solo che non funziona perché se io vado ad animare il mio oggetto vado a notare che l'animazione viene fatta solo in questa parte e il mio ffdbox non rimane fermo nella base del mio animo esiste un altro ffdbox molto semplice da utilizzare e intuitivo che troviamo sotto le forze geometric deformable come trovavamo di fatti il replay, il wave, il conform che abbiamo già visto in precedenza abbiamo anche gli ffd gli ffd in versione box e in versione cilindrica quindi in versione box possiamo crearci questa box con determinate dimensioni a differenza del modificatore e determinate altezze e addirittura scegliere come impostare anche i numeri di vari point che possiamo avere al suo interno e la loro interazione, la loro tensione, la continuità e gli assi di attuazione direttamente un about da chi è stato sviluppato poiché questo freeform non è sviluppato internamente dall'house desk a questo punto se noi la spostiamo vicino alla nostra sfera e se io vado a collegare la mia sfera con il suo bind link che troviamo bind link che troviamo accanto all'unlink quindi select link unlink bind link space warps vediamo che noi possiamo collegare di fatti questo nostro space warps adesso se io vado a prendere i vari punti, i vari controller scusate, con il comando di selezione seleziono la mia space warps posso prendere i vari punti, i vari controller se io li vado a modificare noterò che vado a modificare anche la mia sfera ma la cosa ancora più interessante è che se io vado a ruotare la mia sfera vedo che la trasformazione viene fatta soltanto dove è la mia gabbia dell'FFD box a questo punto capite bene che noi ci basterà andare a creare degli FFD box per tutti gli elementi e per poterli poi dopo animare con i vari elementi quindi vado a nascondermi il body vado a nascondermi volendo il well lascio soltanto la sospensione e vado a crearmi di fatti un layer chiamato punto space warps warps nel quale vado a creare il mio FFD box questo FFD box avrà un nome naturalmente punto FFD box tire front left lo vado a clonare però mantenendolo come istanza quindi front right stessa cosa li vado a clonare dal padre vado a generare due in questo caso uno che sarà way left way right e saranno tutti i contenuti all'interno di questo layer li vado ad allineare con quello way right la nostra con le varie ruote ok e a questo punto dovremo andarli a impostare e a selezionare in maniera che siano impostare in maniera che vadano ad agire solo sulla mia geometria naturalmente li posso andare a collegare con le varie forme nel senso che loro saranno collegati alla forma della sospensione del mio controllo della sospensione quindi di conseguenza tutti avranno un collegamento si muoveranno in base al nostro rettangolo di posizione troviamo le leggi erarchie vediamo che nelle gerarchie hanno un colore diverso e sono collegate di fatti al spostare ecco qua sono collegate ai vari controlli delle ruote bene andiamo a impostare allora di fatti il nostro FFDbox possiamo volendo prendere una prima diciamo gomma e vediamo allora com'è impostato una gomma isolo selezione e mi porto una vista laterale e la vista laterale avrò sicuramente bisogno di avere un attimo un'altezza un pochino significativa per esempio 5 8 ok e volendo possiamo anche facciamo un attimo la selezione prendiamo anche il control shape isolate selection torniamo a vista laterale e avremo bisogno di avere molta più aria quindi possiamo realizzare un pochino più grande più alte possiamo dare 60 30 vediamo dalla vista superiore 30 è un po' troppo 23 24 23 23 va bene 23 60 in questo caso 63 3 63 essendo delle istanze in automatico si modificano anche tutte le altre quindi ci basterà lavorare solo su una a questo punto andiamo la laterale e invece di spostarla verso l'alto poiché se andiamo a spostarla non spostiamo anche le altre vado a prendere direttamente i vari control points e vari control points non selezionano è disposto probabilmente porterò a zero vari control points volendo posso utilizzare la selezione riferita solo ai warps porterò a zero questi miei elementi ma anche questi li porterò molto vicini a zero tra questi altri li posso portare se adesso vado a selezionare il mio pneumatico e lo abbino allo space warps noterò che avrà una grande influenza devo andare sicuramente ad aggiustare il mio space warps con i suoi punti posso tornare indietro molto velocemente ok vado a collegare space warps noto che abbiamo una grande fluenza quindi di default questa griglia non è assolutamente ottimale l'effetto di fatti della nostra gomma infatti se noi adesso andiamo a selezionare il nostro controller vediamo come la gomma percepisca bene questa trasformazione naturalmente avendo un limite questo limite un po' può fare questa operazione qua naturalmente bisogna anche stare abbastanza attenti fin dove si avvicina non scenderemo mai oltre questo limite qua se scenderemo oltre questo limite è bene andare a rimpostare meglio la nostra FFD box l'ideale è avere questo effetto con il limite attivo quindi cosa possiamo fare per migliorare ancora di più questo effetto quindi togliere questa FFD box e la cancelliamo completamente le cancelliamo per sicurezza andiamo a portare il limite 0 il mio pneumatico vado a ricrearmi l'FFD box non avremo praticamente quasi mai questa situazione però per sicurezza naturalmente avendo tolto il link devo rilincare tale geometria tale geometria quando la ruota praticamente va in basso tende a flusciarsi in alcuni punti magari si sovrappone questo perché probabilmente la nostra grid non è abbastanza grande quindi possiamo andarla largare un pochino 3 e avremo questo effetto quindi la nostra grid la rinominiamo la riposizioniamo sul nostro shape il nostro space warps come punto e la ricolleghiamo al nostro oggetto a questo punto andiamo a fare un clone come istanza mandola mandola right la linkchiamo la allineiamo ma non per l'asse delle z ok la colleghiamo la ruota ad essa facciamo la stessa operazione magari chiamiamola tire wheel la chiamiamo rear left e ok ma istanza sempre rinominiamo velocemente ok a questo punto siamo pronti per poter assegnare l'ultima parte del nostro rig possiamo anche verificare che tali modificatori agiscano sulla gomma perfetto 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 ok a questo punto salviamo e siamo pronti per procedere con il nostro rig grazie